Nel ricco ventaglio di esposizioni d'arte che propone l'antico castello di Barga sono tornati anche i pennati di Khin. Presentate per la prima volta a Barga nel 2019, le opere ispirate da questo antico strumento della vita contadina e dei boschi hanno trovato ospitalità nella ex bottega La Loggia, in piazza del comune. I pennati di Khin portano alla scoperta di un piccolo grande oggetto della civiltà contadina, oggi per lo più inutilizzato, ma che invece affonda le sue radici in questa valle, nei tempi dei tempi, opere che ci riportano dunque nel passato. Ma dal passato vicino al passato lontano, perché qui c'è una storia dell'attrezzo agricoltura che la gente usava fino a recentemente, però c'è una storia che va indietro migliaia di anni fa sulle incisioni rupestre sulle montagne lì. Khin si ispira proprio alle incisioni rupestre apuane, rievocate da opere realizzate con materiali particolari, dopo una lunga ricerca. Usando le robe proprio locali, infatti, queste qui sono tutte sutelli, ma sono fatte con ceneri di faggio. Ora per lui è anche tempo di pensare alla mostra del suo ultimo progetto. Dal 12 luglio, l'altro di Palazzo Pancrazi, sede del comune, ospiterà infatti le opere ispirate al detto a tavola non si invecchia. Indubbiamente un altro attributo ad una barga città d'arte. Il percorso che abbiamo intrapreso da qualche anno, cercando di spingere molto per incentivare questo centro storico sotto questo punto di vista. Oggi ci ritroviamo 10 spazi tra, diciamo, gli spazi pubblici, quindi comunali, e gli spazi di privati, quindi barga che attrae e che diventa sempre più punto di riferimento per quanto riguarda il mondo dell'arte, che, come dicevi, spazia dagli artisti locali fino a artisti di grande importanza a livello nazionale.